Al Palacio Sarone di Gensano abbiamo anche l'attrice Miriam Bernardini, a prescindere che lei è una delle più brave attrici che io penso che ci sono in Italia. Ma non solo, lei ha una marcia in più, perché lei è una ragazza che sposa tantissimi avvenimenti per la pace del mondo. È una delle più care ragazze che adotta bambini, bambini che stanno in Africa. Buonasera a tutti. Spero e mi auguro che questo sostegno arrivi veramente nei cuori di molte persone. Perché se tutti facessimo qualcosa, una minima e piccolissima parte per qualcuno, non dico che salveremo il mondo, però una buona cosa potrebbe veramente sostenere grandi persone. Grazie Miriam per essere stata qui e per aver sposato anche questo evento. Grazie.